Siglato l'accordo a conclusione della procedura di mobilità dei tecnici di Aras, l'associazione regionale allevatori della Sardegna, che consentirà ai lavoratori di essere assunti alle dirette dipendenze dell'agenzia regionale Laore attraverso l'internazionalizzazione del servizio destinato agli allevatori sardi. In caso di assunzione presso Laore nei prossimi mesi, l'accordo siglato consentirà di non perdere le mensilità relative al periodo di preavviso, lo ha dichiarato la segretaria generale della UILA UIL Sardegna, Gaia Garau. Abbiamo solo potuto prendere atto della cessazione dell'attività di Aras agente liquidazione, che dal 2021 non esisterà più. È necessario che il passaggio alle dipendenze dirette della regione avvenga nel più breve tempo possibile per evitare qualsiasi disagio. L'Aras è un'associazione privata, ha svolto in convenzione con la regione un'importante attività di informazione e formazione nei confronti delle aziende agropastorali, nell'ambito della misura 14 del programma di sviluppo rurale dedicata al benessere animale. La liquidazione era stata avviata nel 2018 con la nomina dei liquidatori e vedrà il suo punto di arrivo a dicembre 2020 con la cessazione definitiva.